Come promesso, il nostro arcivescovo Rocco era presente alla festa di apertura. Nell'omelia ha ricordato gli atleti del Paralimpico. L'evento del Paralimpico è stato l'occasione per il nostro parroco, Don Fabio Moretti, di riportare nella chiesa di San Pietro i dipinti e le pale della Pinacoteca parrocchiale, salvata dal compianto Don Clario Pallotta. È stata una iniziativa razionale, sacra e santa. Riportando i sacri dipinti in una chiesa consacrata, Don Fabio ha rimesso in moto le vibrazioni registrate nei dipinti da parte dei fedeli oranti in centinaia di anni di preghiera. La Madonna del Latte ha la maggiore potenza, percepibile facendo un vuoto mentale. La Madonna del Latte ha la maggiore potenza, sensibile facendo un luogo di sanità di